Gentili telespettatori, buona giornata. Vi presento questo rompicapo. In questa foto c'è un gatto. Non è ben delineato, nel senso che le facce sono ben delineate, ma il gatto è nascosto tra due teste. Tra un uomo con capelli corti e una donna con i capelli a caschetto e con gli orecchini. Lo vedete? Io non lo avevo visto. C'è chi ci ha messo quattro secondi, ma credo che sia un record assolutamente imbattibile. Io ho dovuto guardare la soluzione perché non ci sono riuscito. Che dite? Vi faccio vedere la soluzione? Guardate, eh? Guardate dov'è il gatto? Siete pronti? Eccolo qua. Lo vedete qui il gatto? Vabbè, era un po' per rompere la tensione cupa di questi giorni con questo Covid. Grazie a tutti e arrivederci.